Trieste Espresso 2024 continua, ci troviamo allo stand di la San Marco SPA dove è stata presentata nella giornata di ieri nel nuovo modello macchina che ha avuto davvero un successo clamoroso, ci troviamo in compagnia di Francesco Costanzo il brand ambassador dell'azienda, caro Francesco bentornato ancora una volta Eccoci, ciao a tutti, vi auguro una buona fiera innanzitutto perché ci sono tantissime novità per questo mi trovo qui anche per la nuova uscita della nuova macchina Luxury che ha una tecnologia importante e si possono fare tantissime cose finalmente anche in versione Luxury quindi una macchina adesso oggi parte per l'ammirazione che abbiamo per la macchina dei cambi di colori e all'interno della macchina si possono settare tanti parametri che con la stessa macchina possiamo fare tanti tipi di caffè con un solo tipo di caffè Francesco, che cosa accadrà qui allo stand tra pochi minuti? È un evento bellissimo, un workshop importante sulla latte art e abbiamo chiamato in merito a Salvatore Riuno che già è lì a prepararsi per questo evento bellissimo dove mostrerà tutte le sue abilità intanto Salvatore domani proprio qui a Trieste Expo gareggerà per il titolo mondiale del campione mondiale di latte art quindi abbiamo veramente un professionista in questo momento dello stand qui a San Marco dove adesso ci fa vedere tutte le sue abilità della latte art, tutti i disegni importanti E noi intanto gli auguriamo i migliori auguri, incrociamo le dita per la gara di domani e lo chiamiamo tra pochissimi minuti ai microfoni per testimoniare la sua presenza qui allo stand la San Marco. Francesco, grazie Grazie a voi, grazie a tutti